Potete dirmi le sette squadre che hanno giocato più partite a eliminazione diretta in Europa League? Siviglia Il Siviglia è primo con 52 partite L'Arsenal l'ha giocato tante volte L'Arsenal è sì Andando anche in fondo? Andando in fondo sì L'Arsenal non è in questa classifica Molto bene Secondo me ci sono tante spagnole comunque in questa classifica Gioca o c'è l'Atletico? Atletico Madrid Atletico Madrid non è in classifica Potrebbero essere Ajax L'Ajax c'è Quinto con 36 Per me il Benfica c'è Vai Benfica Il Benfica c'è secondo con 44 PSV? Il PSV non è in classifica Dai prova a giocarti lo United No giochiamoci il Villareal Oh il Villareal Terzo con 43 Dai io voglio dire L'Eintracht Frankfurt Mi dispiace non è in classifica Ultima vita rimasta Giochiamocene una così abbiamo le risposte E ci giochiamo Chi ti vuoi giocare? Due ore Ci giochiamo al Manchester United È vero male che ti sei giocato al Manchester United Dai C'è C'è Quarto con 38 Benfica l'hai già detto Benfica l'abbiamo già detto O è Sporting ma io non ho ricordi dello Sporting Se vuoi che sparo io sparo Vai dai spara tu Il Liverpool Il Liverpool non è in classifica mi dispiace Non avete indovinato lo Sporting Che io me lo ricordo invece tante volte con quella maglia verde bianca strisce Che avevamo citato Sì e il Valencia Lo Sporting è sesto con 35 Il Valencia è settimo con 34 Un buon risultato Abbiamo preso 5 su 7 Sì